Alessia Marcuzzi e il post di cordoglio per la morte di Karl Langerfield.Il mondo della moda, ma anche quello dello spettacolo è a lutto Alcune ore fa è venuto a mancare Karl Langerfield. Anche Alessia Marcuzzi, che spesso ha indossato abiti disegnati da lui, lo ha voluto ricordare sul suo profilo Instagram A poche ore dalla nuova puntata dell'Isola dei famosi 14, la conduttrice ha messo una foto del grandissimo stilista sempre impeccabile nel suo outfit Accanto allo scatto solamente un cuoricino nero e le mani in segno di preghiera. Sicuramente nella diretta di domani la Marcuzzi lo ricorderà .Karl Langerfield.Il ricordo di Alessia Marcuzzi e quello di altri personaggi dello spettacolo e della moda Alessia Marcuzzi e l'altri personaggi dello spettacolo hanno annunciato la morte di Karl Langerfield Quest'ultimo si è spento a 85 anni e può essere considerato il genio creativo che ha cambiato il volto della moda attraverso la collaborazione con due brand molto importanti come Chanel e Fendi Ma lo stilista si è fatto notare in tutto il mondo anche per una personalità poliedrica che spaziava dal fashion all'illustrazione, passando per la fotografia Purtroppo il primo campanello d'allarme era arrivato durante l'Aute Couture di Parigi, lo scorso gennaio 2019 In quell'occasione Lagerfield per la prima volta non si è presentato al finale della sfilata di Chanel al Grand Palais Al suo posto, infatti, a fianco della modella Vittoria Ceretti, c'era Virginie Iviard, studio director della Maison Braccio Destro da più di 30 anni di Karl Amo considerarmi un freelance. Questa parola è l'unione di free, libero come ho sempre voluto essere, e lance che ricorda la parola francese e l'ancie, come era definita un tempo un'ambita cortigiana Io mi sento libero e mercenario virgola punto aveva dichiarato il compianto stilista Karl Lagerfield nel corso di una lunga intervista Iscriviti per non perdere le novità, grazie per il like